www.marizopoli.it, in edicola settimanale Mondopadano, anche in digitale su www.mondopadano.it, nell'inserto economia e lavoro, nella rubrica risparmio e finanza, eccoci qua con l'articolo di Giusy Biondelli, educatore e consulente finanziario, che ci parla dei bond, quindi complessità e volatilità rendono difficile individuare le aree e i trend su cui investire, in termini di vendimenti, di ammortizzatori di portafoglio, grazie alla diversificazione. Dottura interessante per ribadire anche gli aspetti dei rischi di valutazione, i rischi sono quelli tradizionali, il rischio di liquidità, il rischio greenwashing, il rischio emittente, questi sono alcuni che vengono citati, ma ce ne sono altri che vi invito a leggere per una sana e conoscenza, perché come diciamo sempre noi, informarsi, conoscere per decidere. Una buona lettura, alla prossima!